Siamo completamente opposti in realtà, abbiamo due personalità molto differenti, quindi forse per questo c'è questa chimica di coppia perché anche secondo me quando lui giocava era differente da me, quindi siamo diversi ma complici. Sappiamo molto bene da dove siamo partiti, dove volevamo arrivare e non abbiamo mai voluto che nessuno dicesse nulla riguardo il nostro rapporto e forse è anche per questo che siamo così distaccati in palestra perché non vogliamo che sia un limite per le nostre carriere e quindi forse abbiamo fatto sempre dei sacrifici anche per questo, per cercare di dimostrare senza che nessuno dicesse mai rispetto al nostro rapporto. Partito tutto come un gioco per passare il tempo perché le giornate erano lunghe e noi avevamo la fortuna di avere una pallina a casa e la penisola e un po' di spazio in cucina. Non abbiamo rotto niente, quindi quella è stata la soddisfazione più grande, ci siamo divertiti e basta, è finita lì, è finita quel… dopo quei giorni di lockdown non abbiamo più riproposto queste sfide, ci dovremmo pensare, magari qui in campo. È stata una giornata difficile, nel senso che comunque mi dispiaceva e ho vinto ma da una parte c'era la felicità, dall'altra un po' di dispiacere perché comunque veder lui triste per la sconfitta un po' ovviamente mi dispiaceva, però questo è il gioco e sicuramente è meglio se vinco io e perde lui, ecco. Diciamo che noi partivamo in parte già battuti, per me non è stato semplice, forse però è stato più difficile per lei rispetto… perché io ovviamente sono a bordo campo, per me è un po' più semplice gestire le emozioni, per loro è un po' più difficile, visto che spesso e volentieri non solo lei ma anche le altre mi guardavano, le altre giocatrici che ho qui a Conegliano. È stata una sfida molto particolare, la prima con le nazionali, quindi è stata sentita da molti. No, il record a casa non c'era, erano più tanti giornalisti che ci ricordavano del record di ogni partita, siamo a 70, siamo a 71. Devo dire che all'interno del nostro spogliatoio si sono sentite soltanto le ultime partite, perché ovviamente quando arrivi lì vicino vuoi semplicemente vincere e portare a casa un altro traguardo, no? E quindi si sono sentite le ultime partite, io le ho vissute da fuori perché ero infortunata e ho sofferto tanto perché comunque ho visto la scuola soffrire e non poter dare una mano è stato difficile, però devo dire che il raggiunto è stato anche la liberazione di un peso perché dopo tanto tempo che magari i giornalisti dicevano la prossima sarà quella giusta, è come se ti liberi di qualcosa e dici adesso l'abbiamo traggiunto possiamo pensare ad altro. Grazie a tutti! Grazie a tutti!